Eccoci qua, buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi vi avevo promesso che avremmo parlato un po' di NFT e quindi vi ho portato una persona che ne sa decisamente più di me. Come sapete io non ho più seguito tanto le nuove altcoin e sì, ho guardato un po' il trend degli NFT, ma diciamo non ho le competenze necessarie per poterne parlare a livello approfondito. E allora quello che di solito uso fare è che quando non so benissimo qualcosa porto qualcuno, chiedo a qualcuno che ne sa più di me, anche perché non si può sapere tutto, oserei dire. Quindi vi ho portato Alessandro che dovreste già conoscere perché effettivamente ci eravamo già visti su questo canale, ve l'avevo già portato live proprio per parlare di temi simili, quindi blockchain gaming, NFT e insomma queste novità che ultimamente stanno spingendo parecchio. Noi ne avevamo già parlato mesi fa, quando già erano caldi, erano interessanti, ma adesso veramente sono una cosa allucinante. Quindi Alessandro ve l'ho portato qui proprio per spremerlo una ventina di minuti, perché poi non preoccupatevi parliamo anche di grafici, lo so che voi state fremendo adesso per analizzare i grafici, però ho trovato interessante appunto anche trattare qualcosina sul tema NFT. Quindi capire un po' in che direzione sta andando il mercato, quali sono i progetti più interessanti da seguire, se c'è qualche insight, quindi qualche piccola chicca che lui che lavora di questo, cioè è esperto proprio del settore degli NFT, ci può dire. Quindi preparatevi anche qualche domanda, ve l'ho detto, questi primi 20 minuti circa parliamo di NFT, e poi continuiamo con le vostre domande e con il nostro solito live. Quindi vi chiedo questa parte iniziale, per questi primi 20 minuti fate domande inerenti al tema degli NFT. Alessandro innanzitutto ti saluto di nuovo, grazie per essere tornato sul mio canale. Tra l'altro io e Alessandro, per chi non lo sapesse, stiamo portando avanti un piccolo progetto dedicato proprio agli NFT, in realtà soprattutto Alessandro, lo ammetto, lo sta portando avanti perché io ultimamente sono un po' latitante, visto il poco tempo a disposizione, ma è un canale Telegram di cui vi lasciamo tra l'altro il link in descrizione, tematico proprio soltanto sul mondo NFT. Alessandro, che dire, vuoi ripresentarti per chi non ti conosce, così poi iniziamo subito ad andare al sodo? Certo, allora Luca innanzitutto grazie ancora per avermi ospite sul tuo canale, è un piacere rivederti e parlare del mondo degli NFT. Io non abito più in Italia, ma mi hanno detto che ieri al TG1 c'è stato un servizio su gli NFT e questa cosa fa un po' pensare. Come sai mi occupo su coliminvalley.com di dare notizie sul mondo degli NFT, di DeFi e in particolare mi sto dedicando all'Eteum. Una cosa che secondo me è molto importante da dire subito è che gli NFT non sono soltanto arte digitale, che poi è il trend principale, ma si parla di tantissime cose. Ad esempio si parla di musica, c'è una band molto famosa, King of Leon, che hanno appena rilasciato un album in NFT. Per dirla un po' in maniera più semplice, se pensiamo agli NFT, andiamo un po' indietro nel tempo. Pensiamo alle musiche a set, ai CD, ai DVD, ai Blu-ray, allo streaming. Gli NFT sono semplicemente, alla fine dei conti, un nuovo formato per imprimere nella blockchain un oggetto che può essere fisico o soltanto virtuale e poi mantenerlo nel proprio wallet o rivenderlo a qualcun altro. Prima parlavi di grafici, Luca, ne vedremo di grafici anche oggi perché secondo me il mondo degli NFT si collega molto anche al mondo dei token, ovviamente. Quindi token fungibili, Bitcoin, Ethereum, chi più ne ha più ne metta, token non fungibili o non fuggible token sono appunto degli oggetti indivisibili. Anche se c'è qualche progetto, Luca, che sto studiando, che ha realizzato degli NFT divisibili e quindi permette di investire come negli index fund in piccole frazioni di questi NFT. Perché io, Luca, se sei d'accordo, partirei con proprio una parte un po' più visiva, condividendo il mio schermo e facendo vedere un pochino quello che sta accadendo nel mondo degli NFT per dare, come dire, il via alle danze. Molto volentieri, Alessandro. Tra l'altro, prima stavamo facendo due chiacchiere prima di iniziare il video, che è il motivo per cui siamo arrivati un po' in ritardo, perché mi ha fatto vedere delle cose che io ho detto wow, tra cui proprio questo discorso degli index fund. Cioè, ci sono delle sorte, adesso ve li farà vedere meglio lui, di indici di fatto per investire e diversificare. Quindi, chi non ha voglia di stare acquistare e vendere NFT, è possibile utilizzare questa sorta di paniere che va a diversificare un investimento su diversi NFT. Veramente interessante, mi ha aperto un po' gli occhi su questa cosa. Comunque, adesso, aspetta che ti abilito la condivisione dello schermo. Tac, togliamo le nostre facce, così si vede bene. E, Alessandro, secondo te, quali sono, al momento, ti faccio una domanda da super neofita proprio, mi metto nei panni di chi ci sta seguendo, quali sono i progetti NFT che vale più la pena seguire? Allora, è una domanda molto interessante, ce ne sono davvero moltissimi. Dico, innanzitutto, che, come dicevi poco fa, sul nostro canale Telegram, quindi, t.me slash market NFT, noi parliamo tutti i giorni di questi nuovi progetti che stanno nascendo. Ne parlo molto sul mio Twitter, Alex Nomads, dove tutti i giorni potete trovare delle notizie. E sicuramente qui vi faccio vedere il primo progetto. Avete sentito parlare molto di Beeple. Beeple ha davvero sconvolto il mondo dell'arte digitale, per tante ragioni. In questo momento c'è un'asta, un'asta sulla famosissima Christis, quindi la casa d'aste più vecchia al mondo, che al momento ha un'offerta di 13 milioni di dollari. Quindi, questa asta scadrà tra circa 20 ore. E attorno a quest'asta si scadrà una vera e propria... una cosa incredibile. Perché? Perché collegata a quest'asta c'è un token chiamato B20. Questo non è un NFT, questo è un token RC20, quindi sulla Ethereum blockchain. Se andate nel grafico, negli ultimi 14 giorni, questo token è partito da 8 dollari, arrivando, proprio in questi minuti, a 28 dollari. Quindi, perché questo token ha fatto questa salita incredibile? Beh, se pensiamo a Beeple come artista, un artista che ha già battuto il record per, in pratica, prima ancora che l'asta si concluda, per la vinta più alta nel mondo degli NFT nella storia, raggiunge queste cifre, è perché c'è molto, molto interesse attorno a B20 anche. B20 è il token che è legato a queste opere d'arte. Se noi andiamo a vedere in quello che fondamentalmente sta avvenendo nel mondo di Beeple, vediamo che ci sono molti NFT, quindi arte digitale. E vediamo che ci sono fondamentalmente dei metaverse all'interno di questo token. Il mondo dei metaverse fa parte proprio degli NFT. Un'altra cosa che secondo me è molto interessante sottolineare sono i progetti che stanno avvenendo e che stanno avvenendo successo. CryptoSlam.io è sicuramente un sito che bisogna tenere sott'occhio, perché se OpenSea fa vedere solo quello che avviene sulla Ethereum blockchain, CryptoSlam invece guarda al mondo, a tutto il mondo degli NFT. E come vediamo, se ne parla tantissimo ultimamente, NBA Top Shot è il progetto sulla Flow blockchain che sta vendendo maggiormente. Negli ultimi sette giorni NBA Top Shot ha avuto delle sales, delle vendite per 51 milioni di dollari, con 65 mila compratori. Numeri incredibili, ma è ancora più incredibile forse che con soltanto 161 compratori, CryptoPunk, che è il progetto più antico per così dire, perché stiamo parlando soltanto del 2017, l'anno di creazione, ha venduto a soltanto 161 buyer, compratori, 12 milioni. E quello che vi chiederei, cosa sapete di CryptoPunk? Perché CryptoPunk è un qualcosa di davvero interessante. E CryptoPunk di base è un progetto, come dicevamo, nato nel 2017, dove queste immagini, qui che possiamo vedere su colinvalley.com, sono delle immagini 24x24 pixel che vengono scambiate sulla Ethereum blockchain e che hanno raggiunto valori da milioni di dollari. Un CryptoPunk è stato venduto per oltre 2 milioni di dollari e ci saranno sicuramente delle cifre molto, molto interessanti che avverranno nei prossimi mesi attorno al bank. Tra l'altro, scusa Alessandro, sbaglio? O i CryptoPunk all'inizio sono stati tipo eardroppati o quasi regalati al tempo? Esattamente. I CryptoPunk 10.000 sono stati dati in maniera gratuita, come un airdrop, a chi li prendeva di base. E se noi andiamo a vedere quello che è avvenuto su OpenSea, vediamo un attimo se il mio internet ricomincia a funzionare oggi. Allora, su OpenSea ci sono i rankings, che ovviamente possiamo andare a visualizzare, però OpenSea in questo momento è un po' lento, perché Ethereum, come sapete, può darci qualche problemino, non solo di gas fee. E allora vediamo su CryptoSlam. CryptoPunks sono stati dati appunto gratuitamente e possiamo vedere che ci sono davvero tante cose che sono interessanti da osservare. Il fatto che, ad esempio, ecco, questo CryptoPunk che vediamo qui ha delle caratteristiche, delle caratteristiche che è nella sua bocca. Ora questa cosa è venuta a sembrare strana, perché questo canale, il canale di Luca, è un canale dove si parla di trading. Perché stiamo facendo vedere un'immagine pixelata? Beh, quello che dobbiamo capire, innanzitutto, è che i non-forgible token sono per chi ci sta ascoltando, probabilmente qualcosa di strano, ma per i ragazzi di oggi, io ho 34 anni, ma se qualcuno oggi ha 20 anni, o forse anche 15, per loro nasce col cellulare in mano, è la normalità. Noi siamo nati senza il cellulare in mano, ma per loro avere un qualcosa all'interno del cellulare o dentro un PC senza poterlo toccare, è un qualcosa che è totalmente normale. Quindi è normale che un CryptoPunk venga venduto per cifre così alte. E più è raro questo CryptoPunk, maggiore sono le sue caratteristiche di realità, maggiore sarà il valore dei CryptoPunk che andiamo ad osservare. E la cosa che voglio dirvi però è che ovviamente i prezzi in questo momento sono davvero alti. Ci sono state le vendite negli ultimi, vedo, negli ultimi 13 minuti fa, e sarà venduto un CryptoPunk per 18.9 Ethereum, 35 mila dollari. Un altro per 22.5 Ethereum. E queste sono cifre che ovviamente non tutti possono avere. Quindi la soluzione che vi propongo oggi è NFTX. NFTX è un Index Fund dove è possibile andare a investire su CryptoPunk. In che maniera? In due maniere. Facciamo conto che voi avete nel vostro wallet un CryptoPunk. Bene, se lo avete è possibile per voi andare nell'app e andare letteralmente a fare un upload del vostro CryptoPunk dentro il basket di NFTX e in cambio ottenere una moneta. Una moneta che è possibile visualizzare anche su CoinGecko che non ha bisogno di presentazioni. Punk Basic. Punk Basic è uno dei token che si possono ricevere in cambio del deposito di un CryptoPunk. E come potete vedere, Punk Basic in questo momento vale 26.393 dollari. Sono cifre assurde, Luca. Non so quanti token in questo momento abbiano queste cifre in tutto il mercato. Ma infatti la prima cosa che a me viene da chiedermi, da profano, è ma tutto questo hype, tutto questo aumentare di prezzi, di qualsiasi cosa che è nel panorama degli NFT. Secondo te è una cosa sensata o è la classica bolla destinata poi a scoppiare? Beh, allora il rischio è molto alto. Se nel mondo delle Crypto, come tu ricordi sicuramente ai tuoi ascoltatori ogni volta, è sempre alto, il rischio per gli NFT, quando parliamo di questa tipologia di progetti, quindi investire in un token che ha probabilmente, ecco andiamo a vedere, questo token ha meno di un mese di storia, perché è nato il 18 febbraio. NFTX stesso, che è il progetto di cui vi parlavo prima, è nata il 6 gennaio ed è un progetto totalmente nuovo. Parlando proprio con il founder di NFTX, Alex Gaussman, che è un americano, lui ha investito tanti mesi della propria vita per creare questo progetto NFTX. Creare questo progetto che costa una barca di soldi, mi parlava di oltre 50.000 dollari, soltanto per crearlo e per testare che questo andasse bene. Dietro questi progetti ci sono degli sviluppatori con le palle, cioè mi viene da dirti proprio in questa maniera un po', forse anche volgare, ma è questa la verità, queste persone hanno investito notti e notti per creare questo progetto, quindi se dalla parte c'è il rischio del mercato, che può ovviamente crescere o decrescere, dall'altra poi bisogna andare a vedere la realtà dei fatti, e se su SushiSwap, probabilmente ne avrei parlato tante volte, su SushiSwap è possibile creare, partecipare a un liquidity pool, e in questo momento c'è un liquidity pool di Punk ed Ethereum, ed è possibile per tutti voi andare a vedere come sta andando i liquidity pool di Punk. Punk Basic in questo caso è un token che abbiamo visto, ha un volume discreto, e ha comunque un market cap di 3 milioni di dollari, quindi comunque non parliamo di bruscolini, parliamo di tanti soldi, quindi tornando a noi, se ho un CryptoPunk posso inserire all'interno del basket e in cambio ricevere un token, che sarà quello di Punk, che ha un valore di 26 mila dollari in questo momento, se invece non ho un CryptoPunk, ma voglio comunque essere esposto al mondo del CryptoPunk, in questo caso vado su Uniswap, con un mercato decentralizzato, un exchange decentralizzato, e in quel caso posso acquistare anche una frazione di Punk, che non devo spendere 26 mila e 393 dollari, posso spendere anche 10 dollari, e in cambio prendo una piccola frazioncina di Unpunk Basic, che è proprio il token di cui stiamo parlando. E questo è un consiglio che mi sentirei di dare, su questa pagina che dicevamo, polimbali.com slash nft trattino a collector, sto un po' mostrando il mondo degli nft, quindi come si parte, che cosa sono gli nft, qual è il percorso che bisogna fare, quindi creare un wallet metamask, questo perché credo che più o meno tutti i tuoi ascoltatori abbiano un wallet metamask, ma se non ce l'hanno forse è tempo di farselo. Poi si può imparare come si tokenizza la propria arte, quindi andare su OpenSea, creare la propria collezione di nft, e successivamente si fa studiare un pochino quali sono gli nft un po' più popolari, quindi NBA Top Shot, ne abbiamo parlato poco fa, abbiamo parlato di CryptoPunk, c'è un altro progetto molto interessante, che si chiama Hashmask, che stavo provando a caricarvi prima, probabilmente qui non lo carica perché come si è un po' bloccato ora, ma su CryptoSlam c'è questa possibilità di vederlo. Hashmask è uno dei progetti che mi ha colpito maggiormente, in questo momento è al quarto posto, 314 mila dollari di vendite, nelle ultime 24 ore, quindi comunque non male, io personalmente ne ho presa qualcuna, e spero che tutto insomma vada bene. La cosa interessante di Hashmask è che quando si investe in un Hashmask, che vi faccio vedere, questa è un po' un'immagine, ma c'è un articolo che ho creato su Coliving Valley, che parla un po' della storia di Hashmask, quello che c'è alle spalle dei creatori, fa capire che ci sono davvero degli artisti che hanno investito il proprio tempo per creare queste circa 16 mila immagini, già Luca, già soltanto pensai di caricare 16 mila immagini, già questo è il lavoro, poi naturalmente trovare la forza di fare qualcosa di interessante, Hashmask ha praticamente cosa ha fatto? Ha creato un fondo di questi Hashmask e poi successivamente hanno venduto 16 milioni di dollari in un solo weekend. Ognuno di questi Hashmask, un po' come CryptoPunk, ha delle caratteristiche uniche, ha una maschera per esempio messicana, di un animale, un corpo di un robot, insomma ogni caratteristica poi può permettere di dare un valore maggiore o minore a questa opera. E la stessa cosa che abbiamo visto prima per Punk Basic, se andiamo a vedere su NFTX, possiamo andare a vedere che anche gli Hashmask hanno un fondo, un fondo che vi permette di sapere quali sono le Hashmask che sono all'interno del fondo di NFTX. Se vi interessa però sapere quanto materialmente è il floor, quindi il prezzo base di un Hashmask, possiamo andarlo a vedere. Quindi ci andiamo qui su CoinGecko, andiamo a cercare Mask, ce ne sono tre, cercate quello con NFTX, e qui potrete vedere che Hashmask fondamentalmente in questo momento vale 2479 dollari, quindi un prezzo molto inferiore rispetto a quello di CryptoPunk, quello di Punk Basic, ma comunque un valore interessante che ci fa capire una cosa, Luca, secondo me molto interessante per chiunque voglia prendere sul mondo degli NFT. Qual è il prezzo che in questo momento è il più basso per tutto il mercato degli Hashmask? Secondo il mercato in questo momento il prezzo dell'Hashmask entry level è di 2.558 dollari, e questo per noi è un grosso vantaggio, perché se non posso spendere 2.258 dollari per acquistare un Hashmask reale, posso magari acquistare una parte di Hashmask investendo su Uniswap e acquistando Mask. Questo è sicuramente un qualcosa che potrebbe essere interessante. E questo secondo me già è un buon punto di partenza per capire, ok, di cosa stiamo parlando. Gli NFT possono essere sicuramente art, ne abbiamo parlato tanto durante questa chiamata, ma possono essere anche musica, possono essere un'immagine, una GIF, possono essere un documento, un MP3 che diventa musica sulla blockchain, quindi fondamentalmente chiunque può guadagnarci. e se andiamo a vedere per esempio su siti come Rarible, su Rarible è possibile creare la propria collezione e quando io riesco a vendere il mio NFT a qualcun altro per tutto il corso della vita di quell'NFT, quindi per sempre, io prenderò una commissione sulla mia vendita. Quindi in realtà si può entrare nel mondo di NFT in maniera attiva, quindi creando NFT, e poi guadagnandone, oppure in maniera passiva, quindi semplicemente investendo in un NFT che noi riteniamo interessante, e poi seguirlo per il corso della propria vita. Caspita, quanta roba che ci sarebbe da sapere! Io veramente, cioè non lo so, non so quanto ci potrei mettere a capire, cioè perché anche ascoltandoti, comunque mi rendo conto di non sapere le cose, di non sapere niente, quindi io ti dico la verità, ti dico il mio spassionatissimo parere, a me questo settore degli NFT un po' spaventa. Poi ti ripeto, non riesco ancora bene a capirlo, quindi da non capitore, io preferisco starne per ora fuori, aspettare di vedere un po' come si evolve, anche perché mi spaventa veramente tanto questa apparente corsa all'oro che c'è da parte un po' di tutti. Ho visto addirittura Taco Bell che vuole fare i suoi NFT, ormai è veramente diventato una roba, non lo so, chiunque si sta buttando a pesce sul fare i propri NFT. Io credo che come un po' tutti i trend importanti, inizialmente si sviluppa la fase di bolla, dopodiché scoppierà, io mi aspetto questa bolla che al momento mi sembra veramente al limite dell'assurdo, e poi rimarranno comunque sicuramente i progetti validi, perché si vede che c'è della base valida e c'è un perché, è sbagliato dire gli NFT, non hanno senso, punto. Però come tutte le cose, come è stato un po' anche la DeFi all'inizio, con i suoi APY quadrillionari, ecco, bisogna un po' anche fare un reality check ogni tanto. Certo, ma io ti dico una cosa Luca, io personalmente utilizzo due modi per informarmi. Il primo che l'ho fatto vedere prima, a parte il nostro canale Telegram, Twitter. Io su Twitter trovo davvero di tutto, in particolare posso dialogare con la community, cioè è interessante capire quello che la community pensa, e negli ultimi giorni mi sono trovato a parlare con davvero tante persone e a ascoltare materialmente, a trovare informazioni. Per esempio, ti faccio vedere una cosa al volo. Poco fa qualcuno, una certa Cristina, ha pubblicato una cosa dicendo che qualcuno aveva appena investito 300-2 mila dollari in B20, che sarebbe il token di Beeple, quello che vi ho fatto vedere poco fa. Questa cosa probabilmente non l'avrei potuta sapere se non fossi stato su Twitter. e immediatamente quando c'è stata questa diffusione di questo messaggio, il token ha cominciato a salire pesantemente. Abbiamo notato appunto questa transazione semplicemente su Etherscan. Ovviamente è un mercato, Luca, che dobbiamo seguire. Tu segui tutti i giorni il mercato crypto, diciamo, tradizionale. Ormai è quasi assoluto, dovrà dire, ma stiamo parlando di crypto tradizionale? Mentre questo è diventato il crypto non tradizionale, come non fungible, in un certo senso. Quindi, come dicevi tu giustamente, invito tutti gli ascoltatori a fare delle ricerche, do your own research, come si dice su Twitter. Quindi fate le vostre ricerche e non investire soltanto perché qualcuno dall'altra parte dello schermo vi sta dicendo di farlo. È giusto capire quello che state acquistando prima di farlo, prima di cadere nella FOMO. Questo vale per i nuovi progetti crypto, ma anche per gli NFT. Come hai detto tu, Luca, giustamente, alla fine, quando la bull run che sia crypto, che sia NFT, finirà, e finirà perché a un certo punto i cicli cambiano, anche gli NFT cadranno nell'obbligo. Alcuni cadranno nell'obbligo, altri invece rimarranno per tutta la storia, per sempre rimarranno lì. Quindi una cosa è il Taco Bell che investe, come dire, che crea gli NFT giusto per farlo, giusto per cavalcare l'onda. È una cosa, è qualcuno che in realtà ci crede gli NFT. Io personalmente, come sapete, collaborando anche con The Sandbox, di cui parliamo dopo magari, io credo molto nel mondo degli NFT. e anche The Sandbox di cui tu hai parlato sul canale YouTube, di cui abbiamo parlato in passato, fa parte degli NFT ed è, come dire, un qualcosa che si mette a metà strada tra NFT, quindi non congible token, videogiochi e anche real estate, quindi l'acquisto di una proprietà, però in questo caso nel mondo virtuale. E volevo farvi vedere questa infografica. Cioè, se noi pensiamo al fatto che chi ha acquistato, seguendo anche il tuo consiglio, Luca, qualche mese fa, chi ha acquistato una LAND all'interno del mondo di The Sandbox è già in profitto in linea teorica, perché il valore delle LAND negli ultimi 12 mesi ha avuto un 10X. 45% della mappa di The Sandbox è stata acquistata con parte, come abbiamo visto, con Binance, con Atari e con Wells del mondo NFT come Pransky. Giusto per darvi un'idea, questa LAND qui, quella si vedrà un po' pixelata, ma fa niente. Questa LAND è una extra large di Pransky, questa balena che sta acquistando NFT in tutto il mondo. Lui si definisce il Walmart degli NFT, quindi il Walmart sarebbe una catena di supermercati la più grande degli Stati Uniti e lui è il Walmart degli NFT, acquista costantemente questi collezionabili e questa LAND qui che vedete, che ora si legge 11 in un open sea, è stata venuta all'asta dalle Sandbox per 300.000 dollari. Avete capito bene, 300.000 dollari. Ora, soltanto il fatto per chi ha acquistato questa LAND all'asta di essere vicino di Pransky dà molto valore a questa LAND e il fatto che durante le mesi di febbraio siano state vendute 2.8 milioni di dollari di LAND all'interno di Sandbox fa riflettere, nel senso che potrebbe essere una bolla, magari lo è per alcuni casi. Nel caso di alcuni progetti come il Sandbox secondo me stiamo parlando di un vero e proprio cambio di paragrigma, cioè io prima potevo acquistare un qualcosa nel mondo reale e basta, ora posso farlo nel mondo reale e nel mondo virtuale. Addirittura posso acquistare qualcosa nel mondo virtuale che poi mi arriverà, per esempio si possa acquistare delle sneaker che sono digitali ma che poi mi arriveranno nella realtà e l'acquisto tramite un NFT e il Sandbox segue questo trend cioè io posso acquistare una LAND un pezzo di terra come ha fatto per esempio CoinMarketCap qui e al proprio interno costruisco un'esperienza. Ieri mi trovo a parlare con una galleria d'arte qui a Barcellona che ho invitato a entrare nel mondo dei Sandbox perché ci saranno delle esposizioni che poi verranno fatte in questa realtà virtuale quindi ovviamente il mondo di NFT è davvero vario è difficile scegliere quale è il progetto principale quello che diciamo secondo me è molto interessante come primo approccio è magari NFTX perché permette come dire di investire in un basket quindi come io investo in un ETF io posso investire in un basket senza però acquistare al 100% quell'opera e ottenere un vantaggio qualora questa cosa vada per l'inverso giusto questa ovviamente è una ricerca che ripeto dovete fare voi non è un consiglio ma è qualcosa che secondo me vale la pena analizzare per vedere dove stiamo andando Benissimo guarda io che dire ho ascoltato ho preso punti perché adesso il prossimo compito che devo fare è approfondire cioè per mio interesse personale mi spiace rimanerne fuori non saperne niente finora sono stato un po' come dire restio ad avvicinarmi al mondo degli NFT oddio in realtà io ci ho fatto un video una vita fa quando ancora non era mainstream però poi non ci ho mai investito dico la verità a parte l'acquisto delle land di The Sandbox che anche a me piacevano perché è uno dei progetti che di fatto mi interessa di più perché ci mette dentro il gaming che è un settore che io vedo molto meglio del generico NFT quindi dell'opera d'arte non lo so che ha un senso ecco mi sembra che abbia il potenziale di raggiungere di più le masse e un pubblico più mainstream ecco comunque Ale io ti terrei qui fino a domani per chiederti cose e farti domande però qua altrimenti mi sparano dicono bisogna parlare un po' di grafici qua Bitcoin fa l'all time high quindi se vuoi dire qualcosa per concludere così poi ci salutiamo magari ci vediamo in un prossimo live assolutamente allora innanzitutto ti ringrazio ancora per insomma per avermi come ospite ringrazio chi ha seguito questa lunga ghiacchierata invito tutti nuovamente a venireci a trovare sul nostro gruppo Telegram t.me slash market NFT con Luca stiamo creando una comunità italiana dove e non solo anzi comità internazionale dove ci saranno sia collezionisti che persone che dialogano sul mondo di NFT e se volete apprendere qualcosa di nuovo ogni giorno questo probabilmente è il canale dove andare a trovare info per il resto Luca ancora grazie e ci aggiorniamo presto ti continuo a seguire dopo dalle quinte diciamo ciao grazie figurati Ale guarda grazie a te di nuovo è stato un piacere te l'ho detto avrei voluto farti più domande avere più tempo perché è un argomento di cui più se ne parla e più trovi cose da dire c'è poco da fare però purtroppo le tempistiche sono queste quindi faremo un'altra puntata magari dedicata esclusivamente a questa tematica ecco e portaci buone notizie su Ethereum mi raccomando Luca facci sapere che succede io sono fissato con Ethereum quindi chi lo dici qua è tutto su Ethereum ormai quindi il mondo è così ragazzi ciao Luca ciao a tutti ciao Ale grazie mille allora eccoci qua adesso datemi un attimino di tempo che ritorno eccoci non avevo attivato l'audio vedete ce n'è sempre una vi sto leggendo vi sto leggendo adesso si vede si sente ditemi qualcosa ditemi qualcosa ci sei mancato stop eccolo ok 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 bene check fatto figura di merda fatta e quindi possiamo continuare a leggere le vostre domande che ora mi avete completamente sommerso dal dal dire audio sì audio no e quindi dovete ripartire da zero mi dispiace ripartite pure con le domande mi raccomando via io vi leggo cardano sta per esplodere guarda non vi leggo più ho cambiato idea ho letto questa cosa qui e ho già cambiato idea no il 31 marzo io che esce fuori che ne pensi non lo so non so che cosa sia non ho la più pallida idea l'hai fatto per capire se eravamo botte esatto ma avete beccato in realtà no è un delirio perché ogni volta che invito un ospite adesso vi spiego cosa succede io devo usare skype perché è l'unico compatibile con OBS che fa la registrazione quindi devo switchare dall'audio di skype all'audio mio dal video di skype al video mio e figurati se va tutto bene vabbè torno da voi Solana e Stellar mi puoi dire qualcosa grazie sei un grande allora Stellar non mi convince granché ti dico la verità al momento mi sembra un po' fermo lì mi sembra che non stia facendo grossi passi avanti mentre Solana al contrario mi ispira parecchio Solana ultimamente ha fatto grossi passi avanti nel senso a parte che c'è dentro il nostro caro Sam che dove mette le mani solitamente trasforma in oro ma a parte quello si sta integrando sta creando un suo mondo DeFi parallelo è uscito Radium che è l'ultima applicazione su Solana che ha creato dei liquidity pool interessanti con FI praticamente nulle perché Solana è quello è simile alla BSC per capirci come approccio e come user friendliness ecco e sostanzialmente quello che è accaduto è che è esplosa la liquidità è arrivata già a 6-700 milioni nel giro di pochissimo tempo quindi si stanno costruendo cose molto interessanti su Solana il grafico non lo ho più seguito perché mi ero perso un entry mi ricordo eccolo infatti guarda vi faccio vedere anche quale io seguivo questo cluster di prezzo settimanale dopo il breakout me l'ha missato di uno sputo e lì ho detto vai al diavolo Solana a mai più rivederci anche perché dopo è partito per la tangente e non ha più ritracciato però di fatto è una delle blockchain alternative che sapete il settore delle blockchain alternative è assolutamente sotto steroidi in questo periodo e pertanto potrebbe valer la pena di tenerlo d'occhio perché dietro ci sono persone che ci sviluppano e non sono persone qualunque insomma sono persone con delle ambizioni abbastanza importanti il nostro caro vecchio Sam quindi Solana assolutamente interessante poi 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 cosa abbiamo puoi guardare Sushi l'ho analizzato un po' da solo visto che non lo guardiamo da un po' vorrei sapere la tua opinione andiamo a dare un'occhiata a Sushi quindi che oggi sta droppando un pochino ma oggi le altcoin in generale stanno droppando io avevo aperto una posizione intraday su Ethereum Bitcoin e ho preso uno stop loss bellissimo proprio perché si è messo a pompare Bitcoin quindi chissà magari oggi ci regala l'altime in diretta non lo so io ormai ci ho perso le speranze perché ogni volta che lo dico non lo fa ma sicuramente quello che ha fatto è stato un po' prosciugare le altcoin per oggi e quindi volendo anche creare qualche opportunità se qualcuna inizia a ritracciare un po' come si deve perché ultimamente molte erano estese Sushi ha una di S di fatto come vedete ha avuto una fase rialzista pazzesca ci ha dato un'opportunità di ingresso tempo fa a fine anno ma poi come potete vedere non ha più fatto particolari ritracciamenti particolari correzioni abbiamo avuto la prima leg up con una fase laterale in quest'area e un piccolo retest che ha pescato dal pool di domanda qua sopra poi abbiamo avuto un'altra leg up e al momento sta un po' lateralizzando lateralizzando che in realtà è partita la lateralità con le sembianze più di un ritracciamento che di una lateralità e poi si è stabilizzata verso una situazione quasi non so quasi triangolare mi viene da dire perché di fatto se noi andiamo a congiungere i massimi ai minimi abbiamo una sorta di triangolo quindi ci sono come al solito gli approcci da triangolo nel senso l'approccio di long sotto ipotesi di accumulazione perché abbiamo un triangolo durante un uptrend molto marcato poi abbiamo l'ipotesi di o meglio l'approccio di aspettare che ritracci ancora un po' magari cercando un prezzo d'ingresso un po' più vantaggioso come ad esempio nella zona bassa del triangolo quindi qua vedo un bel pool di domanda che potrebbe fare al caso nostro oppure aspettare il nostro break a rialzo che va a prendere l'ai precedente e di fatto va a violare a rialzo questo ipotetico triangolo e in tutti i casi lo stop loss lo si va a porre nel caso di perdita dello scenario triangolare invece a ribasso quindi questo è un po' sushi al momento visto che il triangolo sta durando da tanto la possibilità comunque di lateralità accumulativa diventa anche interessante quindi ripeto diventa una possibile opportunità si sono mossi tanti volumi non è una cosa di pochi giorni e quindi di fatto il potenziale di accumulazione c'è tra l'altro sushi sta anche lui facendo passi avanti enormi si è rifatto il look non so se avete visto che ha cambiato un po' l'interfaccia web ha fatto un po' di cose e ha introdotto nuovi pool ha in programma di poi switchare sui layer 2 di ethereum quando ci saranno ci sono un po' di cose molto molto interessanti ma in generale il mondo dei dex io credo che possa trarre enorme beneficio dall'arrivo dei layer 2 di ethereum ieri ho parlato esclusivamente di ethereum ma il discorso che ho fatto sull'impatto positivo sul prezzo di ethereum sul valore di ethereum è estendibile anche ai dex stessi perché comunque se sushi swap uniswap al momento sono su ethereum e sono quasi inutilizzabili se poi vengono switchati su layer 2 diventano molto più facilmente utilizzabili i volumi aumentano le fee generate aumentano e capite molto bene che il valore di questi dex è anche lui strettamente collegato all'emergere dei layer 2 e al successo dei layer 2 bene io vado avanti con le vostre domandozze dunque 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 ciao luca potresti guardare ave assolutamente sì quando converrebbe entrare su send e send adesso è volato abbastanza perché tra l'altro io ho letto che tra poco esce il marketplace su the sandbox quindi anche lì ci sono cioè c'è un po' di hype e di fatto adesso il grafico fa un pochino paura è meglio forse attendere una fase di ritracciamento dopo una botta così parabolica poi anche send visto che the sandbox è un po' dentro il mondo degli nft sta un po' subendo ecco l'effetto hype che tutto il mondo degli nft sta vedendo ave invece andiamoci a dare un occhio sta continuando una fase correttiva noi avevamo individuato questo cluster sul time frame giornaliero che però al momento vedo che non sta facendo un gran lavoro in quanto a supporto scusate tolgo un po' di robaccia ma se ci fate caso dunque andiamo a vedere meglio se ci fate caso il livello è diventato inizialmente un attrattore e al momento lo è rimasto nel senso qua stiamo lateralizzando quindi a ave potrebbe diventare interessante se questa lateralità si risolve al rialzo perché di fatto questo cluster diventato attrattore poi diventa una sorta di bottom e allora sì che diventi interessante in particolare se ci andiamo a riprendere anche i 9400 sat qua sopra al contrario se continuiamo al ribasso e perdiamo i 6700 allora niente lo andiamo ad aspettare più in basso perché di fatto al momento abbiamo un bel top puntiforme qua sopra che non è che lasci presagire cose tanto buone inoltre c'è da considerare anche un'altra cosa ovvero il fatto che la bitcoin dominance oggi ha avuto pam un colpo di coda importante ha fatto un più 2% è arrivata al 62% e quindi la possibilità di prosecuzione dell'alt season ve la ricordate che implicava l'andare a perdere il 60% si è ridotta drasticamente quindi di nuovo per andare a esporci in altcoin occorre conviene o meglio attendere una maggior chiarezza nel quadro del panorama altcoin ecco bisogna capire un po' che intenzioni hanno e questo dipende poi fortemente da btc perché se btc fa nuovi massimi io mi aspetto che la dominance fa un altro candelozzo verde e addio bene quindi continuiamo con le vostre domande io ho visto prima una domanda ve l'ho letta mentre parlava Alessandro che a un certo punto mi ero un po' perso ho letto una vostra domanda che riguarda Karura che è la parachain il progetto è Akala non so come lo volete dire ma ne avevo parlato nei progetti più interessanti su Polkadot e Karura è la sua versione sulla blockchain Kusama con questi nomi mi perdo completamente c'è la wait list è aperta la wait list per partecipare al parachain lease offering che pronuncia di Karura su Kusama ok ho detto tutto giusto se vi interessa ecco è qui ovviamente cercate di capire di che cosa si tratta senza buttarsi alla cieca però ripeto è un progetto molto molto interessante a mio parere do your own research come si suol dire allora andiamo avanti potresti guardare RIF USDT allora assolutamente sì anche RIF ultimamente è abbastanza sotto i riflettori RIF USDT effettivamente sta andando bene perché anche lui vedete è in è recente come coin è un uptrend con una fase laterale e quindi valgono un po' le stesse ipotesi che avevamo detto poco fa no? quando abbiamo parlato di Sushi Swap e abbiamo mostrato appunto questo triangolo in una fase in un macro fortemente rialzista triangolo si può dare per ipotesi che sia un triangolo accumulativo quindi una fase accumulativa se così fosse ovviamente valgono vale lo stesso approccio quindi un long con stop loss in caso di violazione di trasformazione poi in un triangolo ribassista altrimenti attendere la violazione del primo high altrimenti aspettare magari che in realtà ci troviamo già quasi sulla oddio non ancora però comunque andare esatto a creare una posizione long a costruire una posizione long cercando di grattare il più possibile dalla base inferiore del triangolo in modo da avere poi lo stop il più stretto possibile che diventa ovviamente più vantaggioso per noi poi 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 ciao Luca come stai? wow è la prima persona che mi chiede come sto e non di analizzare una shitcoin no sto scherzando sto bene dai grazie come mai non analizzi mai bitcoin euro la verità è che ci sta come domanda uno dice ma perché lo analizzi in dollari che qua si compri in euro il fatto è che il mercato in euro ha volumi scarsi poca liquidità e quindi teoricamente le candele che si vedono sul mercato in euro potrebbero essere meno affidabili quindi le chiusure meno affidabili ci potrebbero essere artifici shadow lunghe dei flash crash e cose di questo tipo quindi preferisco andare a esaminare un mercato più liquido che è quello in dollari posso aprire il wallet di trust wallet in metamask oddio 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 dunque se esporti la chiave privata si se utilizzi il seed secondo me anche perché di fatto tu prendi il seed di trust wallet lo metti in metamask ti importa la parte etereum ovviamente non tutto il resto e basta mi vengono in mente questi due metodi non è il massimo lasciami dire perché comunque tu devi scrivere il tuo sido alla tua chiave privata su un pc online dal punto di vista della sicurezza non fa proprio impazzire come cosa però vabbè è un po' un discorso forse da paranoico ciao cosa ne pensi di swissborg non ti so rispondere perché non l'ho mai usato non conosco bene la piattaforma purtroppo ciao luca ho una posizione importante aperta da un paio di mesi in bnb la scalata l'ho fatta tutta praticamente vorrei un consiglio da te se vale la pena tentare di tradare per macinare monete o lasciar perdere vederlo crescere nel lungo non mi sento confident nel tradare bnb guarda io non posso dare consiglio ovviamente però lascia che ti dico una cosa tu hai detto ti sei risposto da solo non mi sento confident nel tradare bnb non tradare bnb evita di farti del male evita veramente di buttare via soldi in questo modo magari fai un piccolo take profit se reputi che hai fatto un profitto interessante altrimenti se ti interessa se vedi del valore futuro crescente in bnb tienilo nessuno ti impedisce di tenerlo e nel frattempo magari metterlo a rendita sui launch pool su pancake swap su varie applicazioni defa insomma di metodi ce ne sono in abbondanza però se non ti senti confident lascia perdere il trading perché è una loss garantita al 100% ciao luca cosa pensi di kusama ci sono news su polkadot di kusama penso tante belle cose riguardo a polkadot te l'ho detto c'è cioè in realtà riguardo a kusama c'è karura che sta uscendo c'è la wait list e poi ci sarà akala su dot ma più avanti anche perché le prime parachain su dot usciranno tra un po' di tempo teta che ne pensi ottimo progetto teta di streaming video una sorta di twitch decentralizzato una cosa di questo tipo l'ho studiato un po' e ho visto che c'è teta che è il governance token e poi c'è il tfuel che è il token che viene in realtà regalato a chi streama a chi guarda è una sorta di incentivo un po' come era bat per brave un incentivo da dare tra tra lo streamer e lo spettatore o viceversa tra uno spettatore e l'altro insomma è una piccola economia interna basata sui video trasmessi sull'attenzione che uno dà sul seguito e sul rapporto poi tra streamer e viewer ci sono delle partnership interessanti che è questo che lo rendono comunque più interessante appunto scusate la ripetizione da seguire come quella con sony ho notato che l'ultima è stata proprio sony e di fatto il grafico di teta effettivamente ha avuto una bella impennata recentemente ha rotto i massimi ha rotti i massimi dopo aver fatto un triangolo ascendente vedete in piena regola ha fatto una bella rottura dei massimi papam e poi niente ha partito per la tangente adesso in price discovery c'è da vedere un po' dove arriva ha formato un cluster nel mentre in questa area dove volendolo si potrebbe tenere d'occhio ma insomma adesso il grafico è un po' ripeto in price discovery quindi è veramente difficile da gestire e lo stesso vale per tfuel tfuel ancora di più pazzesco allucinante non ho niente da commentare su un grafico del genere e dunque torniamo da voi qua l'all time I ho già capito che non lo vediamo mannaggia mannaggia ciao Luca posso chiederti Elrond assolutamente altra blockchain alternativa quindi altro setto fa parte un po' del settore sotto steroidi in questo periodo in realtà Elrond che è EGLD ha avuto anche lui la sua punta molte altcoin hanno avuto questo andamento a punta in particolare quando la dominance ha un po' invertito la rotta ha iniziato a lateralizzare e al momento sta correggendo il macro è chiaramente rialzista non ci sono dubbi a riguardo abbiamo avuto questa deviazione guardate il livello più importante è questo 0.002552 che è il vecchio top abbiamo avuto una deviazione sotto di esso come potete vedere e poi un reclaim quindi effettivamente questo potrebbe essere visto come un setup long l'unica cosa che mi spaventa è questa punta qui io di solito quando vedo queste punte a parte rare eccezioni tendo ad allontanarmi un po' dal grafico perché è difficile recuperare un trend rialzista con un top così forte così localizzato e quindi qua non credo che farò eccezione ma al momento in generale il panorama delle altcoin vi starete anche accorgendo perché non condivido più nulla su telegram non lo sto seguendo in realtà ho aperto una posizione su etere un da bravo psicopatico quale sono che non riesce a fare a meno di avere una posizione su etere tra poco ve la mostro quando analizziamo i grafici però al di là di quello le altcoin non è che le abbia particolarmente ecco seguite proprio perché ci sono molte formazioni di potenziale top e c'è un rischio veramente elevato preferisco non correrlo nel dubbio bnb che ne pensi bnb anche lei sta andando veramente alla grande tra l'altro bnb btc ecco oggi ha fatto un falso tra oggi e ieri ha fatto un falso breakout guardate tac questo scherzettino del nostro bnb non si fa non si fa anche lui ha questa punta molto più localizzata e in realtà meno ampia quindi di fatto la rende un po' diversa dalle altre però al momento è in fase laterale e io vi dico la verità visto l'exploit che ha avuto bnb io non me la sento di andarlo a tradare di andarci ad operare sopra in una fase come questa perché effettivamente anche tenendo questo livello questo pool volendo di offerta qua sopra come riferimento diventa difficile andare a investire a investire un trade cioè immaginiamoci pure lo scenario di breakout di presa della liquidità sulla zona di retest poi si potrebbe entrare però capite bene che abbiamo già un take profit subito sulla nostra testa e di contro abbiamo lo stop loss che è pressoché equidistante no vedete non c'è un rischio rendimento particolarmente favorevole e quindi questo un po' mi allontana ecco poi questo ovviamente non tange tutto il discorso da investitore in bnb perché di fatto bnb secondo me è una coin su cui ha senso essere investito ha senso investire e questo ovviamente è il mio parere che poi di fatto si traduce in quello che faccio lo sapete molto bene in quanto utilizzatore di Binance in quanto utilizzatore della Binance Smart Chain nonostante ripeto so che è centralizzata conosco i suoi difetti però la utilizzo perché offre opportunità interessanti e quindi è nostro dovere un po' seguire queste opportunità ecco dunque continuiamo tra poco arriviamo vado a esaminare subito i grafici due minuti e ci siamo volevo leggere ancora un paio di domande come ti sembra Spider Dao cosa ne pensi non la conosco purtroppo non la conosco sono scomparso nel frattempo benissimo qua oggi oggi succede qualsiasi cosa perché sono scomparso non lo so io rido per non piangere ormai eccomi no non eccomi tac tac allora niente facciamo facciamo una cosa mi riaggiungo facciamo così dispositivo di acquisizione video aggiungi sorgente tac 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 e tac vediamo se ce la si fa hop là mi rimpicciolisco e mi piazzo qua in basso a destra ragazzi oggi non c'è niente da fare c'è qualcuno c'è il mondo che ce l'ha con me cambio di telecamera di nuovo allora ultime domande poi andiamo a vedere di nuovi grafici ciao luca conviene comprare usdc da crypto.com app c'è lo spread ma penso visto che sono stablecoin non dovrei perdersi troppo altra domanda conviene accumulare crow in vista del 19 allora questa domanda dell'accumulare crow in vista del 19 che se non erro è l'uscita della mainnet giusto me la state facendo in tanti e questo mi fa pensare ma non è che visto che tutti se lo chiedono poi sarà un non evento ecco non lo so non so cosa dire io evito di solito di andare a operare in questo modo ovvero andare a dire vediamo cioè visto che c'è una notizia certa che tutti conoscono secondo me ha un impatto positivo secondo molti ha un impatto positivo perché poi è una notizia positiva andiamo a acquistare la coin in anticipo è imprevedibile poi quello che accadrà sul mercato quindi la mia risposta è di scremare di queste notizie scremare a riguardo di queste notizie poi 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 riguardo all'acquistare gli USDC c'è lo spread quindi attenzione secondo me ci sono canali migliori rispetto all'acquisto dall'app di crypto.com sull'app di crypto.com ovunque si vada un po' ad acquistare ci sono degli spread ci sono delle fee quasi nulle cioè sono nulle a meno di acquisto con carta di credito però attenzione che c'è appunto un po' di spread quindi di fatto ci sono dei prezzi leggermente aumentati e potrebbe non convenire c'è di meglio poi dipende tutto da cosa uno vuol fare perché se poi ti servono su crypto.com tu mi dici sì lo acquisto su Binance poi lo sposto tra una fee e l'altra ci spendo uguale devi vedere un po' tu su che cosa ti serve dunque 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 domanda da noob in realtà non è vero dai perché le altcoin le analizziamo sempre rispetto a bitcoin e non in stablecoin ma perché di fatto secondo me analizzare le altcoin in bitcoin aiuta a scremare l'effetto che l'andamento di bitcoin ha sulle stesse perché insomma quando bitcoin va molto bene altrimenti c'è il rischio che sembri che tutte le altcoin stanno andando bene esempio oggi sono tutte quasi tutte rosse tranne Axie Infinity che ultimamente anche lei sta facendo dei numeri incredibili se le andiamo a vedere in USDT noi vedremo un 3,5% in più su tutto quindi magari qualcuna ci sembra che stia andando meno peggio o addirittura bene quindi potrebbe essere ingannevole e poi se vedo che un altcoin performa peggio di bitcoin io tendenzialmente vado a evitare di investirci di aprire posizioni e in USDT a volte fai fatica a capirlo ultima domanda poi guardi grafici un video insieme a testa di bronzo mi manca facciamo l'NFT di testa di bronzo questo si che bisogna farlo avrei la possibilità di minare Raven al netto del discorso sulla dominance di bitcoin che ne pensi del progetto guarda non lo conosco però ho sentito dire che molti dei miner che sono su ethereum si stanno interessando a Raven non so perché forse perché è minabile forse in profitto con le GPU ancora non saprei ciao luca una curiosità come mai quando le nuove crypto vengono lanciate sugli exchange ci sono al 90% dei dump assurdi sono studiate apposta per uno sviluppo lento nel lungo termine oppure è solo un caso guarda che dire al momento del listing sugli exchange è difficile andare a prevedere il comportamento di un altcoin solitamente ci sono dei dump se il listing stesso sull'exchange ha un evento hypato vi faccio un esempio c'è un altcoin che magari è listata solo su uniswap o solo su exchange minori e a un certo punto dice la data x verrà listata su binance o su coinbase boom hype assurda allora inizia a pompare a pompare a pompare poi viene listata e boom che dump e quindi quello può essere l'effetto se vi ricordate quest'estate in agosto c'era il listing di band su coinbase e nel momento in cui è stato listato su coinbase si è preso un'altra legnata sulla fronte e quindi questo è un po' l'effetto quando si hype troppo un evento poi tende a rivelarsi abbastanza non so come dire sfavorevole anche visto che parli molto della DeFi tu ti senti tranquillo lasciare per dei mesi se non anni le tue coin a rendere sulle piattaforme che domanda in realtà no non mi sento tranquillo cioè nel senso detto così sembra che poi sono pazzo a depositarle no sono consapevole dei rischi ho cercato di quantificarli e ho cercato di ragionare sugli stessi poi uno prende le decisioni cioè non è che poi c'è o bianco o nero uno sceglie quanto depositare su ogni piattaforma uno può diversificare per ridurre il rischio chiaro è che tu ottieni un rendimento ma non è risk free risk free scusate quindi bisogna capire e farsi la domanda vale la pena correre questo rischio per ottenere questo rendimento e se la risposta è sì quanto esporsi a questo rischio per ottenere questo rendimento e poi si decide un po' quanto andare a depositare io personalmente vi ho mostrato quanto poi di fatto vado a depositare sulle piattaforme DeFi alcune le posizioni più grosse che ho che è quella su Curve l'ho coperta con l'assicurazione con Nexus Mutual e pertanto sto un po' più tranquillo su quella poi anche sulla Cefai bisognerebbe aprire una parentesi perché di fatto esistono dei rischi anche lì poi si potrebbe aprire un'altra parentesi sia più rischiosa la Cefai o la DeFi e via altre ore di conversazione però bisogna capirlo ecco ciao Luke cosa ne pensi di Pax Gold e quali sono i rischi guarda Pax Gold è regolamentato è erogato da Paxos che è appunto un'azienda regolamentata dal Dipartimento Finanziario di New York e i lingotti d'oro che hanno come sottostante sono tracciati reali quindi io lo reputo un token sicuro uno strumento sicuro per investire sull'oro amici 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 io adesso vado a vedere i grafici qua di all time high non se ne vuole parlare perché io vedo che Bitcoin è sempre lì che zucca 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 ma non spinge quindi sicuramente quello che accadrà sarà che spinge appena terminiamo il live no scherzi a parte noi eravamo rimasti nell'osservare i 52k questa area e avevamo detto ci sta a cercare il long in caso di reclaim su ipotesi di accumulazione io personalmente non mi aspettavo neanche che andasse direttamente ai massimi cioè ma stupito un po' ma ormai ho imparato che non mi devo più far stupire da Bitcoin la cosa che ho fatto tempo fa e che sono contento di avere fatto più o meno ci trovavamo qua è stata chiudere lo short e non riaprirlo ho detto meglio aspettare un attimino visto l'andazzo e di fatto al momento la costruzione il pattern di prezzo che si sta formando su Bitcoin è clamorosamente bullish perché guardate qua ci sono i massimi ok la chiusura è a 57k 57 e mezzo andiamo a vedere il settimanale idem 57 e mezzo pure lì e la cosa pazzesca è che sembra che lo abbiamo recuperato nonostante la forza del dump sembra che lo abbiamo recuperato nel giro di una solo un solo swing cosa vuol dire vuol dire che noi abbiamo avuto lo swing ribassista cioè il movimento ribassista leg down chiamatela come volete poi abbiamo avuto una reazione molto forte sui supporti che avevamo identificato quindi si è comportato in maniera veramente da manuale Bitcoin è andato a prendere i 44 45k il pool di domanda che si trovava qua giù come supporto che effettivamente ha tenuto botta poi dopo aver respinto con una botta di domanda e un po' di lateralità abbiamo avuto una seconda leg up che non ha mostrato pietà non ha mostrato neanche un po' di attesa abbiamo avuto una leg up poi un retest di questa area di supporto che si è confermata poi supporto perché quando eravamo qui era difficile dirlo visto questo falso breakout breakout retest continuazione rialzista presa pure dei 52k e adesso c'è un po' da vedere qual è il limite the sky's the limit si suol dire perché qua siamo ai massimi già e non c'è ancora traccia di ritracciamento quindi questo di fatto diventa un equal high e un equal high in questa maniera va a sancire con ottima altissima probabilità quello che sarà un costrutto di continuazione rialzista perché parliamoci chiaro dopo un equal high qua sopra l'unico modo per avere un andamento di continuazione del ritracciamento è andare di nuovo a perdere il low fatto a 45k cosa che al momento è decisamente difficile fin tanto che ciò non accade questo rimane un costrutto di accumulazione questo è il bello di aver fatto l'equal high quindi porte aperte a cercare il long al momento dove si può cercare questo benedetto long e qua arriva il difficile attenzione ragazzi sento l'energia di bitcoin potrebbe essere il momento no dove andare a cercare il long questa è la domanda difficile dicevo perché il primo supporto un po' come si deve è questo cluster nella zona 52k e secondo me adesso mentre parlo di questi cluster bitcoin spara va in price discovery mi fa un dito medio gigantesco e non lo vediamo mai più e poi bisognerebbe andare a vedere sui time frame intraday perché di fatto l'altro livello di supporto più vicino più prossimo al prezzo attuale si vede solo lì ed è esattamente questo 54k ed intorno in particolare c'è un mini range che vede i 55k sopra e i 53 e mezzo sotto pool di domanda qua sopra pool di domanda qua sotto quindi questa è una possibile entry area sul breve ok attenzione a non confondere l'entry area sul breve con un costrutto più generico perché guardate comunque anche sulle 4 ore l'importanza dei 52k vengono testati qui testati qui testati qui e effettivamente sono il livello più importante non c'è nulla da dire pertanto andare a cercare l'ingresso qua andrebbe a permetterci un entry su un prezzo medio abbastanza accettabile immaginando che questo è un costrutto accumulativo è un po' non dico il punto medio ma quasi e quindi abbiamo un profilo di rischio rendimento eccellente anche senza fare il trade speculativo ok il che vuol dire che non c'è bisogno di andare a mettere lo stop loss appiccicato ma possiamo ad esempio andare a mettere lo stop loss addirittura sotto i minimi perché una posizione veramente di ampio respiro che si può costruire al momento è quella di andare a prendere il long qua e il long qua abbiamo due cluster che fanno il loro lavoro in maniera egregia di punti chiave di prezzo e quindi entry 1 entry 2 stop loss sotto i minimi questa è la classica posizione più di ampio respiro più cauta più accumulativa mentre la posizione più speculativa per chi ha più fretta di entrare prevede invece l'andare a colpire proprio questa zona qua in che modo? beh ripeto primo livello potrebbe essere 55k secondo livello 53 e mezzo e poi volendo anche i pull sopra e sotto però a questo punto dobbiamo decidere dove andare a posizionare lo stop loss non è facile se ci pensate perché la prima cosa che verrebbe da pensare è bene lo metto in caso di perdita di questo livello oppure di chiusure qua sotto però caspita abbiamo appena sotto questo livello di supporto quindi è veramente un peccato andare a mettere lo stop loss qui che magari succede esattamente questo che il supporto fa il suo lavoro allo stesso modo potremmo dire in caso di perdita di questo supporto ok questo forse è lo stop loss più sensato per un approccio del genere il che comunque vedete che lo pone un pelino lontano ok dall'entry dal primo entry eventuale altrimenti però capite che anche se lo andiamo a mettere qua c'è vicino il secondo supporto altrimenti si può fare un lavoro che non bisognerebbe mai fare tendenzialmente che è quello di andare a iterare la posizione al ribasso quindi dire entry 1 entry 2 volendo se poi continuiamo la discesa entry 3 entry 4 però bisogna calcolare bene in anticipo i size complessivi non è che si può continuare ad aggiungere posizioni alla cieca durante il ribasso questa sicuramente è un'opportunità di costruzione di una posizione long mediando anche il prezzo a ribasso perché di fatto ci sono un po' tutte le carte in regola però bisogna calcolare molto bene i size prima di aprire la posizione altrimenti diventa un casino pertanto ragionare sul size e poi decidere quanto voglio concentrarne sulla posizione di breve quanto voglio concentrarne sulle posizioni più caute vado a caricare di più qui perché io ci tengo a non missare la posizione vado a caricare di più qui perché ci tengo al rischio rendimento migliore vado a caricare di più qui perché è un po' di qua un po' di là un punto medio non lo so qua sta la scelta di ognuno di noi e poi in questo caso lo stop loss lo si va sempre a iterare in caso di perdita del supporto che al momento ha tenuto perché di fatto andrebbe a invalidare quel costrutto ripeto di lateralità al momento con potenziale accumulativo molto alto di equal high che si è venuto a costruire questa è la mia visione su bitcoin il bearish scenario quale può essere lo scenario ribassista beh innanzitutto il vedere una reazione smisurata da parte dell'offerta nell'approccio con i massimi quindi ad esempio se vediamo un candelone rosso del genere di sicuro non promette bene altrimenti se qua c'è una reazione dell'offerta sensata l'altro bearish l'altro scenario bearish è la perdita del low altrimenti finché rimaniamo qua dentro siamo in lateralità con ripeto tendenza dal punto di vista statistico maggior tendenza accumulativa e questo è quanto per ciò che riguarda btc poi andiamo a dare uno sguardo a ethereum perché io sto prendendo posizione sicuramente mi prendo una sprangata sulle gengive da questa posizione però di fatto a me piaceva quel costrutto che si era andato a formare qua ok adesso già mi piace meno in verità però io ormai ho voluto costruire la posizione in maniera più accumulativa anch'io nel senso ho visto la costruzione del bottom qui ho visto il break di questo livello 0.0335 e allora ho deciso di aprire una posizione su 0.0335 e un'altra in questa zona ok ve l'avevo condiviso su telegram con stop loss sotto i minimi è una posizione molto aggressiva me ne rendo conto con un rischio rendimento positivo perché come vedete soprattutto con questi ultimi entry lo stop loss è molto abbastanza vicino per essere una posizione sul daily e quindi io punto un po' all'anticipazione vuol dire che questo è il bottom locale visti anche i fondamentali che ci sono in costruzione staremo a vedere perché qualcosa mi dice ripeto che se bitcoin continua a pompare io quello stop loss me lo prendo ma sono pronto a correre il rischio l'avevo comunque preventivata la possibilità bene amici questo è quanto oserei dire io adesso vi devo mi duole dirlo ma vi devo salutare perché abbiamo superato l'ora di tempo io spero che nonostante so che vi interessano molti grafici vi interessa molto il mercato spero che abbiate apprezzato anche quell'intro di una ventina di minuti che poi è diventato una mezz'oretta dove abbiamo parlato degli NFT io credo che sia sempre buona cosa andare ad ascoltare ripeto più voci lo sapete che io ormai sono quello delle analisi a due teste e in particolare questo vale quando si parla di tematiche di cui magari io non conosco bene i dettagli come può essere il mondo degli NFT certo è che parlarne per 25 minuti rischia di essere una confusione più unica che rara perché ci sono talmente tante di quelle informazioni da dire che la metà bastano io che dire spero che capiterà occasione magari di approfondire io vi aspetto noi vi aspettiamo perché io e Alessandro abbiamo quel gruppo su Telegram sugli NFT di cui poi vi lascerò su YouTube il link in descrizione se vi va di entrare che al momento gestisce di più lui di me perché io ho veramente un sacco di impegni e lui soprattutto è molto più sul pezzo di me sugli NFT però che dire vi aspettiamo lì c'è tanta informazione tutta gratuita come al solito e basta io vi saluto teniamo d'occhio Bitcoin che magari ci fa l'all time I stasera e domani ci svegliamo oh eccolo no non ancora ho avuto un'illusione ho visto più 4% ho detto l'ha fatto no in realtà no domani invece vi do un altro appuntamento con un'altra tematica diversa dal mondo dei grafici dal mercato che è il fantastico mondo delle tasse che tutti amiamo lo so lo so che voi amate il mondo delle tasse su Bitcoin però anche in questo caso ho chiamato un professionista me l'avevate detto anche voi di farlo un avvocato tributarista e dottore commercialista tutto insieme con cui parlerò proprio di quello e voi gli potrete fare tutte le domande che volete in live su YouTube e non su Twitch perché poi su Twitch noi ci rivediamo venerdì per parlare invece come al solito solo di grafici e solo di mercato così siamo tutti felici e contenti amici vi faccio un carissimo saluto e ci vediamo domani e dopo domani ormai ci vediamo tutti i giorni ciao a tutti